Allenatori, ci vediamo sabato 7 ottobre e domenica 8 ottobre al Romics di Roma insieme a The Lars. Ci troverete nello stand Divimove a partire dalle 12 tutto il giorno per fare foto e autografi con tutti voi. Le magliette però non saranno disponibili presso il Romics, ma le troverete qua sotto in descrizione ancora per pochissimi giorni. Io e The Lars vi aspettiamo, mi raccomando, non mancate! Ciao a tutti allenatori! Sono sempre io, il vostro amico Federic95ita e bentornati su Pokémon Dark Rising qui con il ventesimo episodio di questa grandissima serie, accompagnati sempre da Tuberanza e The Lars! Ehi, ci siamo! Si si si, si, si è, gente! Allenatori, prima di iniziare, prima di iniziare, Mirko, cosa devono fare? Allora, ragazzi, tanto per cominciare dovete andare bene a scuola, quindi chiudete questo video e andate a studiare! Allora, un mi piace minimo! Un mi piace è quello, vabbè, obbligatorio! Sì, ragazzi, mi raccomando, un bel like, un commente e le magliette di Dragonite in descrizione. Mi raccomando, per pochissimi giorni ancora ci sono. Allora, siamo nella grotta Glaciali. Basta, basta, ok. Glaciali, la grotta Glaciali, dove c'è Chiurem a fine grotta e dovremmo, non so se affrontarlo o... Boh, non lo so, ce l'avete scritto comunque nei commenti. Nei commenti ci avete scritto. E niente, dobbiamo andare avanti in questa grotta, praticamente. Chiurem cosa, scusami? Ma voi dovete andare, dovete finire la grotta, che dovete fare? Io ci sto per entrare. Allora, io sono dentro, ok. Ci sarà una specie di labirinto, come al solito. Sì, vabbè, giusto devi fare due sgarellate qua, ma ci sta. Sgarellate. Tu che sei un grande esperto di Pokémon, no? Di me un po', ma questa... Questa grotta, cosa è ispirata, Mirko? E non ti sta ascoltando, sta per pensare i cavoli suoi. Mirko! Allora, ragazzi, io ho appena cantato un motivetto di una canzone. No, guarda, no, non ti caga. Chi conosce questa canzone, lo scriva sotto nei commenti. Non ti caga. E diventerete i miei nuovi idoli. Sì, Mirko, a parte queste stronzane, ma questa che grotta è? No, è stronzata, che cazzo, è una cosa seria. Che cos'è? Che grotta è questa, Mirko? Lo vuoi dire? Grotta glaciale. No, no, a cosa è ispirata. A cosa è ispirata, cazzo? C'hai vent'anni. A cosa è ispirata? 30 anni, da un po', però vabbè. A tua zia? No, no, a cosa è ispirata. È ispirata. Alla... Alla sigaretta? A tua zia? Dani, dillo te, ti prego. A tua zia? A tutta mia zia. A tutta mia zia? 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 Sì, ma infatti io moro con due. A cosa è ispirata Mirko, sta grotta? A quella di oro e argento. Oh my godness. No? No. Allora, che cazzo ne so? Ragazzi, aspetta, c'è stato un terremoto qui. È ispirata alle cose, la... Isola Spumarine. Primisola, secondisola, terzisola... E questa che isola è? Sabbia Fine. Si, Sabbia Fine. No, dai, raga, questo è cordilloma. Curem's Den, ragazzi. No, cordillato. Cazzo, dici? Brunifoglia. Ragazzi, ma la parola curem's den vi dice dent? Curem's Den sarebbe tipo il coso, sì. Sì. Oddio, ma ci sono le cose di ghiaccio che si rompono quando ci passi sopra. Oh, ragazzi, c'è la corona di ghiaccio, che aumenta le mosse tipo ghiaccio, incredibile. Non l'avrei mai detto. Ma che ti me ne capisci? Ma che me stai dicendo? E ci danno anche un bel po' di MTU, in realtà, in questo percorso. Però bisogna uscire. Siete, guarda che non serve che ti sforzi a parlare strano. Tu parla normalmente. No, 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 no. Allora. Ti esce bene lo stesso, cioè. Ho un commento. Allora, raga, io ho raggiunto la fine della grotta, in realtà. Bisogna andare in alto, sopra la cascata. Scusate, ragazzi. No, aspetta, scusate, una domanda. Mi sa che si è buggato, perché c'è lo strumento perla qui, per terra. Lo raccolgo, scompare, torno indietro e ricompare. Eh, prendere l'infinito vuol dire che praticamente c'hai soldi infiniti con quella perla. Eh, sì, eh, sì. Hai visto, Mirko? Mi è affrontando di continuo, sta perla. Riscopriono sempre cose nuove, hai visto, sì? Eh, sì, 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 cioè, adesso, allora, dove? Super repellente, assolutamente sì. Raccolgo. Ah, ma guarda che storia. No, dobbiamo affrontare questo tipo che c'ha due pavole a livello 48. Raga, ma mi controllate poi se si è buggata pure a voi? Che poi è una big pearl. Cioè, non quella piccola. Ah, beh, allora è ottimo, perché te la puoi rivendere all'infinito. Eh, beh, sì, è ottimo. All'infinito magari no, ma io ne raccolgo un altro paio, raga, poi mi vado via, perché... Una big pearl. Raga, io ho trovato la MT di ca... Oddio, raga, raga, raga. Dovete fare tipo una roba con il ghiaccio cascando al piano di sotto e poi prendere le scale, perché trovate la MN di cascata, chi c'ha Geridos. Già fatto, già fatto, Dallards, già fatto. Perfetto, perfetto. Allora, vediamo un po', io mi sa che posso cascare qua. Ma qua dentro c'è... Grrrr! C'è qualcuno che ha fatto un verso stranissimo. Cioè, scusate una cosa, per quale motivo io sono in groppa ad un Pokémon pur non avendo surf? Ma tu non sei in groppa, c'è proprio una riga che ti porta in alto, se vedi. Di ghiaccio. Allora, bag. Ma c'è dato cascata veramente qua che non riesco a vedere dove? Sì, waterfall. Aspetta che vado in MTMN, qui, Team Case. Vediamo un po'. Ah, waterfall, wonderful, yeah. Cold, cold, vai. Oh, io sono arrivato da Kyurem, regà. Eh, vabbè, pazienza per cascata, cioè, voglio dire. Già già sta da Kyurem questo. Sì, non mi chiedete come cavolo ho fatto, ma mi... Cioè, mi si sono completamente tagliato. Che? Che hai fatto? Che hai fatto? Mi si sono tagliato. Cioè, non so come è successa sta cosa, però... Minchia, regà, se è grosso! Minchia, è bellissimo, tra l'altro. Io ancora ci devo arrivare, però. Da Ruggis. E allora, come cazzo vai a sapere che è bellissimo? Mi hai detto che è grosso, allora è bellissimo. Ah, per te tutte le cose grosse sono belle, eh? Allora sei capitato proprio con il compagno giusto, amico mio. Beh, non eri felice quando da piccolo sotto l'albero di Natale ti trovavi un regalo gigante? Oddio, c'è un shawatt selvatico. Però sei stato contento quando al Modena Nerd mi sono tolto le mutande, eh? Oddio, quando è successo, scusa? Che schifo, Mirko. No, niente. Drago Pulse, però il problema, raga, è che... Cambio subito discorso, eh? Eh, sì, regà, perché... Minchia, che rito c'è a 225 d'attacco. Cazzo, con Waterfall fa... Con Waterfall vai alla grande, eccoci qua. Gli scagnozzi, zizi, zizi, zizi. Ma tu stai ancora da gli scagnozzi, Dani? Cioè, Mirko è andato da... Eh, ma io mi sono andato a raccogliere le cose, cioè, figa. Ma anche io ho raccolto tutte, che Mirko è andato direttamente in alto, non si è preso manco. No, regà, non è che io l'ho fatto apposta, io mi sono completamente perso. Mi ci sono proprio ritrovato davanti a Kyurem, lo giuro su mia madre. Ecco, è andato direttamente in alto, Mirko, non è andato a prendere gli strumenti come cascata, eccetera. Ecco perché è andato direttamente da Kyurem. Il mio intento era proprio quello di andare sotto a prendere gli strumenti. Ma è vero, veramente c'è la Big Pearl qua che continua a riapparire. Guarda! Ah, pure a te, allora. Minchia, raga, la puoi prendere all'infinito! Minchia, i soldi! Siamo ricchi! Allora, raga, mi dispiace, amo che ci arrivo io, starò tutta la parte lì a riprenderlo. Minchia anch'io, raga! Eh no, vabbè, raga, io non l'ho fatto. La parte si conclude qui. Madonna, raga, vuoi raccogliere tutte le perle che vuoi? Basta che fai avanti e indietro? Ma è bellissima sta cosa! Eh, lo so, oddio, che è bellissima. Cazzo, c'ho già dieci perle grandi nello zaino. Eh, non è, raga, non è, non è usare i trucchi, è veramente così. Thunder! Cioè. Mena thunder! No, Dani, la screenbacker. Eh, state citando, state citando! No, non è vero, è il gioco che è fatto col culo! Guarda, raga, datemi un consiglio. Allora, Electros può imparare tuono, che ha precisione 120, ma, no, scusate, potenza 120, ma precisione 70. Glielo imparo, oppure glielo lascio thunderbolt? A parte che glielo insegno, però sì. Eh, eh, ma se c'hai quella mossa che si chiama, se non sbaglio, pioggia danza, non può mai fallire, tuono. O se lo usi mentre c'è la pioggia, insomma, sì. Eh, ma che faccio, però? Mettiamo che io non abbia la pioggia danza. Eh, tabinder! Ma che fa? Gli elimino, gli elimino thunderwave? No, thunderwave no, che è utile. No, infatti no, quella può essere utile. Eh, allora la devo lasciare perdere tuono. È vero, ma io sto qua con un po' come questa surf senza che ho surf. Ma hai ragione, tu mi... Ma noll. Oh, che faccio? Lo lascio sta tuono, dai. Ma non lo so, Mirko, devi valutare se secondo te ti è più utile. Eh, ragazzi, è una mossa fortissima, ma la precisione è bassa. Eh, lo so, eh, lo so. Io sono tentato a non insegnarglielo. Ecco la Big Pearl. Boh, raga, io non glielo insegno. No, lascia stare. Amen. Com'è che si rifà la Big Pearl? Lucario. Eh, basta fare avanti e indietro e in continuazione, Daniel, si dovrebbe riapparire. Raga, ma io non riesco a trovare questo cazzo di Pokémon che chiude. Ma non dire le parolacce. Ma dov'è questo Pokémon? Il parolacce le dici a casa. A me non mi si rifà la Big Pearl, comunque. Ma si è sfigato, allora. Davvero? Eh, perché voi avete usato i cheat e io no. Eh, sì, certo. Ma che cheat? Ah, fifone oltraggio. Beh, minchia, fifone te lo imparo sì, oltraggio. Niente, ragazzi, io non riesco a trovare questo cazzo di Pokémon. Fate come volete, ma io non riesco a trovare questo cazzo di Pokémon. Cazzo, 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 cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo. Non riesco a trovarlo? No, non c'è. Ma dove cavolo devo andare? Dragon Dance. Ah, eccolo! Eh, che cavolo che non riuscivo a trovarlo. Ma tu l'hai già sfidato il tipo, Mirko? Chi? Già battuto. Ma chi? Sto Sidney. Eccolo, Kyurem. Ah, io lo so sfidare adesso. Ok. Eh, Dragon Dance e Waterfall. Ah, minchia, non puoi fallire dopo un po'. Oddio, Sidney con sei Pokémon. Madonna, raga. Io faccio sei Dragon Dance e poi cascata a manetta. Ah, c'è sciotto tutti praticamente. Ah, questo mi mette Axorus adesso. Provo con Fifone ad attaccarlo prima con oltraggio, ma... Fifone oltraggio! Mamma mia! Ah, ia! Raga, mi ha mandato Kyurem al 60 questo tipo. Bellissimo, perfetto. Ma male, speravo in realtà di poterlo catturare, ma non è così. Peccato. Vabbè. Eh... Banda Kindra. Sempre Iron Heed. Ma vada. Ma eccolo Kyurem, porca vacca. E che gli faccio io mo? Mosse! Acciaio! Oppure lotta. Acciaio! Lotta pure, va bene. Fa un po' quello che ti pare. Anche, anche. Madonna, raga. La Waterfall però non leva un cazzo. Dream Punch! Mamma mia, ragazzi. Bestiale. Bestiale. Il mio Electros fa paura, ragazzi. Fa paura. Assurdo. Waterfall. Ok. Non teme niente e nessuno, questo. Perfetto. Ciao, Sidney. Stame bene. In quella sorta. Ehm... Ho appena sconfitto Sidney. Yes, anch'io. A me manca solo Axorus da buttare giù. Però parlano anche di Keldeo. È vero. Il mitico Keldeo è più rilassato adesso che Kyurem è tornato alla sua forma normale. Ah. Poi ci ringrazia. Ringrazia soprattutto voi. Vabbè, io cascata, me ne frego e vado avanti. Ma è utilissimo se c'hai che ridosso, ma che scherzi. Sì, ha voglia, zio, ha voglia. Eh, lo so, zì, ma come faccio a torna tutto sotto? Eh, devi fare tutto tu perché sennò è tutto dritto. Ci sono un sacco di strumenti utili come il gelomai c'era. Vabbè. Gelomai? Sì, aumenta il mostro di tipo ghiaccio, se lo dai un po' come tipo ghiaccio. Eh, lo so, ma che faccio? Cioè, come devo fare? Io non... Ti torna tutto indietro. Non ci posso più tornare indietro. Sinty, attento tra l'altro che non è più nostra nemica adesso. Non ci posso più tornare indietro, Fede. E allora Mirko mi sa che... Perché c'è la parte in cui devo utilizzare surf. Ah, attraverso le scalette. Eh, no, non mi arriva proprio... Oh mio Dio, sono uscito dalla grotta e c'è tutto un percorso di neve. Ok, tutta neve, io c'ho i Pokémon qua 68, 70, 70. Blizzard Root, il percorso tipo... Della Blizzard. Della Blizzard, proprio la casa produttrice. Esatto, proprio qui stanno loro. Eh, ok, perfetto. Infatti sì, oh. Ora vado a vedere se mi danno qualche gioco. Eh, vedi, sembra scrocca, stai. Allora, attacco, attacco. Allora, dragobunza. Eh sì, raga, siamo nella nuova città praticamente. No, non è la nuova città, è proprio il percorso. Iceland City si chiama questa città, fantastico. Ah, tu sei già andato proprio via. Eh no, c'è un percorso, ma non c'è niente su sto percorso. E che devi va? Ah, ok. Anzi, ci sono un po' di pomo da... Davide un po' di pomo, però... Vabbè, vado a vedere un po', io ho utilizzato le perlenti. Eccola la città. E c'è pure la palestra. Eh sì, c'è la palestra, ma la palestra c'è Rocco davanti, non so che... Sì, la palestra è un tipo piaccio, per l'altro. Sì, ragazzi, insomma. Ok, ci sono anche le iperpozioni, c'hanno da comprare qua. Bomba. Oh, finalmente le iperpozioni. Senso, lo movimento sensuale. Usuale, sexy. Superibellenti ne prendiamo, ragazzi, tipo 99. Mirko, però se ci mettiamo a completarci le canzoni a vicenda, poi non c'è più attrito. Esatto, no, no, allora no, regà, lasciamo stare. Oh, Drarz, vaffanculo. Minchia, raga, ho venduto 15 big per 56.000 dollari. Cioè. Eh, vabbè, grazie. Tu sei uno che usa i glitch, eh. Ma ti fai un po' senso. Ma che vuoi? Il gioco, secondo me, l'ha messa apposta l'acqua, la cosa. No, perché danni non lo fa. Poi devi notare che, tipo, gli edifici sono stati piazzati, tipo, a caso sulla neve, c'hanno il bordino dell'erba verde. Giochi fatti bene. Giochi merdosi. Madonna, veramente. Uh, però io ne ho prese 12 di perle. Io 15. Bomba, sì. Poi ci torno, però. Hyper Potion. Hyper Potion. Eh, di queste ne compro tipo 50. No, bene, vabbè, bastano 40. Eh, su! Questo c'è da dolce anche nevai, il Colin Case. Perché qua penso ci sia la sala gioche. Sì? Sì, così andiamo in tendenza. Ah, cos'è il Colin Case? Il Colin Case. È esatto. È che poi andiamo in tendenza, capito? C'è anche Scott qua, non so perché c'è Scott. No, vabbè, no, inzio, è una cosa della tendenza. Eh, sì. Ah, lol. Non avevo capito. Catti, se facciamo i video così, col gioco d'azzardo, andiamo in tendenza sicuri. Ne so, che vergogna, regalo. Che vergogna. Ma facciamo i video quelli là dove grattiamo, grattavinci, no? Ah, no, 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 ci tengo la mia dignità. Ma cos'è il Lucky Egg? Lama putt, Lucky, oh, un altro bug ho trovato. Il Lucky Egg sotto la... Eh, io non lo prenderei il Lucky Egg, comunque. Ah, il Forte Nuovo, cacchio. Ah, sì, sì, cazzo, il Forte Nuovo. Mica, quanti ne possiamo prendere? L'esperienza, se non vado errato. Mica, io ne posso prendere 6, 7. Cazzo, lo do a ogni Pokemon, raga. Io non ho presi 18, ne ho presi... 10 ne ho. Oddio, è la Chia che mi si rifà pure a me. Eh, vabbè, ogni Pokemon. Eh, vabbè, ogni Pokemon. Dallo, ogni Pokemon. Dallo, budello. Sì, sì. No, aveva che sto bug. Non lo so, sì, però raga, lo strumento blocca il passaggio. Quindi, se si continua a rifare, non passiamo. No, no, passi, passi. Dragon Fang. Eh, però, a Beacon mi serve con quello strumento. E anche a me il Dragon Fang glielo ho lasciato... Vabbè, adatto, non ci ha mostri tipo Drago, per ora. Quindi, shit. Venosauro glielo diamo. Io glielo do a tutti, ragazzi. Electro, se cosa ha? Senza pensieri proprio. Exp Share. Ah, ok, il condivisore esperienza. Va bene, allora gli tolgo il condivisore e gli do questo. Sì, sì. Anzi, io un condivisore e lo lascerei, perché se prendi tutti questi punti esperienza fai la buobo combo. Ah, sì, ci sta. Allora, che facciamo? Dobbiamo entrare in questa grotta, giusto? Ah, no, devi andare. Sai dove? Eh. C'è una grotta qua, lunghissima. È bisogno di entrare in questa, se non sbaglio. Possiamo iniziarla? Io ho detto, entriamo nella grotta. Lui, no, no. Devi entrare nella grotta. Eh, no, pensavo... No, mi sono sbagliato. Intanto io ho appena ritirato lo spirito che avevo catturato, tipo un episodio fa, che era nel box. Ok, e fai una cosa, Mirko, possiamo entrare in quella grotta, fare giusto due o tre allenatori, se ci sono, e poi terminare i disori, perché nel prossimo andiamo a fare la palestra. Sì, ci sono, ci sono gli allenatori qui dentro. Allora, bisogna... Eh sì, il prossimo episodio facciamo la palestra, però mi curo la squadra. Tra l'altro spirito è una bomba. Eh, ma per fare la palestra dobbiamo prima finire sta grotta, fammi capire. Eh, sì, sì, esatto, penso di sì. Perché non posso fare... Spirito è una bomba, ha già catturato a livello 60, ha tipo psichico, ha forza antica. Cioè, è una bombissima. Ma io mi do... Trovo una bombazza, eh. A bombazzo, frate. A bombazza. Tentacool, no, no, lasciamo... Ah, ci sono gli allenatori. Cos'è che volete fare? Ah, Dark Town, ok. Eh sì, ci sono da fare gli allenatori, raga. Eh, sì, ma dobbiamo completare sta grotta prima di poter andare in palestra, giusto? Eh sì. Who are you? How did you get here? Raga, io sono... Ma perché ne finisca fa tu? È troppo... Troppo forte, veramente. Uh. Eh, vabbè, raga, questa qua me la posso pure evita. How are you? Krogan e Scolupi. Che significa War you, Fede? Ehi, ciao, come va? Tutto bene? Intradotto in how are you? Allora. Ma veramente ci hai messo un po' troppa roba. Esatto. Abbiamo fatto un po' un miscuglio, però va bene. Un po' tutto. Ma sì, ci sta. Idrocompa e foglie lama. Ok. Eh, raga, comunque, mi hanno scritto nei commenti, tra l'altro, che se noi parliamo con uno di questi due sacchetti qua, se non sbaglio, ci dovrebbe essere un allenatore. Ah, ecco, infatti. Uno è un allenatore, raga. Con che quei sacchettini quelli per terra? Sì, quello di destra è un allenatore. Devo dire quando sei spazzatura, capito? Tentacruel ancora. Poi, in realtà, sono loot, non è spazzatura. Tra l'altro il capo palestra ha detto che la palestra è chiusa per alcune difficoltà. Va bene. Eh, boh. E il capo palestra mi sa che non ha pagato l'affitto? La grotta? Io non ho pagato affitto. Noi stiamo nella grotta. Io non ho pagato affitto. Io non arriviamo in fondo alla grotta, ragazzi. Io batto sull'allenatore e poi terminiamo l'episodio. Dai, vai, vai. Voglio provare il mio spirito. Non lo so, a quanti minuti siamo, Fede? Eh, 20. 20 paccati siamo? Eh, già. Eh, allora dobbiamo interrompere, perché poi i file non ti arriveranno mai nella vita. Mai, mai, mai. Vabbè, io potrei anche interrompere qua. Nel prossimo episodio finiamo la grotta e andiamo a fare la palestra, se volete. Sì, sì, ci sta. Ho trovato anche una caramella rana dentro sta cosa. Raghi, 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 sghi. Comunque, se lasci il laghi egg, i pokemon vi salgono in un attimo, veramente. Lo so. Eh, ma infatti io ne ho dati diversi. Ah, c'è una caramella rara qua. Eh, ok, li radiamo. Ancora. 12, 10, 18, hai dato, ok. Troppo forte, è stato attacco, regà. Troppo forte. Vai, aghi, ad aghi, ad aghi. Ari Kane, Tornado, è veramente pazzesco. Sì, che poi, nello scorso episodio... Sì, che poi potresti salutare. Nello scorso episodio erano tutti i commenti sul tuo Ari Kane. Vatteli a leggere, va. Ci sono solo i commenti sul tuo mio Ari Kane. Ma erano positivi o negativi? Un po' negativi, però vatteli a leggere. Perché negativi? Cazzo vogliono, scusa. Vatteli a leggere. Che successo? Noi ci vediamo nel prossimo episodio. No, spiegami un po'. Vabbè, non me lo spieghi. Un like. Io uso Ari Kane quando cazzo non la mi pare. Comento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo. Come te. Come te. Ciao allenatori. Ciao a piacere. Come te, egalite, libertà. Ciao a piacere. 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 Grazie.